E' una sit-com. Con i due Avengers. Ipotesi plausibile. So che il grembiule è leggermente eccessivo, ma faccio del mio meglio per integrarmi, caro. Buongiorno, cara. Ciao, ragazzi. Ciao, piccolini. La vita è accelerata qui in periferia. Qui c'è qualcosa che non va. Forse è meglio girarla di nuovo. Manda! Manda! Non ho idea di come tutto abbia avuto inizio. Che cosa c'è fuori Westview? Non ho capito cosa è successo. Sarà lo stress del lunedì mattina. Siete d'accordo? Sta succedendo veramente. Sì, amore mio. Stai piangendo? Che c'è? Mi ha coinvolto.